In arrivo sul terzo binario treno speciale 19785. Trenoplastici d'Italia 2019. Stazione di Civitanova. In partenza dal terzo binario treno speciale 19785. Trenoplastici d'Italia 2019. Stazione di Civitanova. Stazione di Civitanova. Stazione di Bracciano. Allontanarsi dal terzo binario trenoplastici d'Italia intramessico. Stazione di Civitanova. Stazione di Civitanova. Stazione di Civitanova. Stazione di Civitanova. Grazie a tutti.